Due elevatori, padre e figlio, risultano scomparso dal giorno di Pasqua a Petilia Policastro, nel Crotonese. Due, Rosario e Salvatore Manfreda, rispettivamente di 69 e 34 anni, sono usciti a bordo di un fuoristrada e non hanno più fatto rientro a casa. Non vedendoli tornare, i familiari hanno presentato denunce ai carabinieri che hanno avviato le ricerche. Al momento non è stata trovata neanche la vettura dei due che, secondo quanto si è appresso, sono incensurati. I carabinieri stanno sentendo i familiari dei due scomparsi per cercare elementi utili a chiarire quanto accaduto. Usciti domenica con un'auto, una Ford, sono poi spariti nel nulla e all'omento non si è riusciti nemmeno a trovare la vettura. Entrambi sono originari di Mesoraca, residenti a Foresta e non avrebbero alcun precedente penale. Nello scorso mese di ottobre, sempre a Petilia, si era registrata la scomparsa di un allevatore 44enne Massimo Vona. L'auto dell'uomo venne ritrovata qualche settimana dopo completamente bruciata dai carabinieri della compagnia di Petilia-Policastro in una strada interpoderale in località Castelluccio del comune di Petilia-Policastro. Da prima indiscrezioni non è escluso che i due esistessero dirigendo nella loro azienda agricola che si trova tra il territorio di Petilia e quello di Mesoraca. I militari al momento non escludono nessuna ipotesi, compresa quella tra la sparizione di Massimo Vona e quella di Rossario Salvatore Manfredi, nella quale possa esserci un legame.